Come andiamo ragazzi qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video Oggi è sabato insomma come ogni sabato cerchiamo di portare video sulla Nintendo Switch come quasi ogni giorno sul mio canale Però video sempre più elaborati e sempre migliori Ieri abbiamo parlato di Minecraft per Nintendo Switch un gioco che ho avuto la possibilità di provare appunto su questa console E garantirvi che quindi merita l'acquisto I 30€ non sono un'esagerazione ma secondo me un prezzo più che giusto C'è anche da notare che Minecraft ormai è quasi sempre il primo nelle classifiche di vendita su Nintendo Switch E questa la dice anche abbastanza lunga Ma nonostante ciò non è questo l'argomento di oggi bensì il mio controller per Nintendo Switch Ieri ve l'ho fatto vedere e molti sono rimasti incuriositi da cosa diamine sia successo Per farvela breve il controller per Nintendo Switch Quello dove vengono attaccati appunto i Joy-Con con la specie di grip che è disponibile a 2990 anche nella variante da caricare E il classico grip dove tu metti le mani ti fa un controller per la Nintendo Switch E successivamente puoi tranquillamente giocare sin da subito come se avessi quasi un pro controller Dico quasi perché ovviamente l'esperienza di gioco è completamente diversa Ma non siamo qui a mettere i puntini su lei Sul web da poco ho visto un ragazzo che l'aveva pressoché smontato E aveva fatto un pad tra virgolette più comodo Dico tra virgolette più comodo perché ovviamente dipende dall'esperienza personale di una persona E quindi da un fattore pressoché soggettivo Insomma da che mondo è mondo ho notato che persone trovano più comodo il pad della PS4 rispetto a quello della One Anche se io personalmente trovo molto più comodo quello della One Quindi stiamo parlando di gusti e di comodità personale Ma preso comunque dalla curiosità di questa persona di capire come diamine avesse fatto a fare una cosa del genere Cosa ho fatto? Ho ordinato dei cacciaviti molto specifici E mi sono messo a smontare la mia Nintendo Switch Ma non la console, non la dock, bensì il pad E siamo arrivati a questo risultato Questo risultato molto piccolino, molto comodo e molto carino Adesso voi mi direte ma come hai fatto? Adesso ve lo faccio vedere, smonto i Joy-Con e arrivo Come tutti sapete questo qua arriva con un grip posteriore Un grip che ci permette appunto di impugnarlo con una facilità e comodità tale In modo da poter usare entrambi i Joy-Con collegati insieme senza avere problemi di sorta E non dover stare ogni volta a collegare e scollegare l'accettino In modo tale da appunto doverlo collegare alla console più velocemente Nonostante ciò ho notato che mettendo appunto i Joy-Con qua dentro Non potevo mettere i grip posteriori Ovviamente parlo delle cover in silicone In questo caso sono quelle gialle però in altri casi le avete già viste Perché purtroppo hanno questa parte posteriore che è bombata Quindi non ci entrava in nessun modo Ho provato a metterla successivamente e niente Ho provato a inserirlo con e niente Ho ordinato delle cover apposite e niente Insomma nulla sembrava funzionare con questo grip per tenere i Joy-Con collegati Ma quando vidi questo video finalmente capii che la soluzione era solo una Smontarlo E così è stato L'ho smontato Ho semplicemente tolto la parte posteriore Per quindi lasciare questo che è decisamente più portatile a mio parere Insomma te lo puoi mettere anche nella custodia della Nintendo Switch Quella portatile lunga perché tanto ci sta è piccolissimo E la cosa più comoda è che comunque Non perdi in comodità a mio parere Perché comunque ci sono i grip Ci sono le bombature dietro per quanto riguarda ovviamente le cover in silicone Certo senza cover in silicone è un po' strano Però il mio utilizzo era questo Insomma non mi sarei mai messo a fare altri utilizzi strani E' una cosa che non consiglio però E' una cosa che non consiglio perché obiettivamente E' molto molto difficile togliere questo pesto Ho dovuto fare forza e infatti è finito molto male Adesso cercherò di farvelo vedere Ok nulla di irreparabili con un po' di colla Però come vedete ho dovuto parecchio forzarlo per riuscire Infatti se vedete tutta questa parte è di quel bianco Come se la plastica fosse esageratamente in tiro E stesse per rompersi Ma ho avuto la fortuna di non romperlo Dato che comunque la Nintendo Switch è solida E quindi in sostanza basta un po' di colla e posso facilmente sistemarlo Ovviamente nella parte integrale era così Attaccato così non so se ve lo ricordate Comunque penso che la maggior parte di voi se lo ricordino E che comunque chi ha una Switch lo sappia Però in ogni caso siccome mi trovavo scomodo Ho deciso di applicare questa soluzione Allora ho notato che molti di voi comunque lo vorrebbero Però io vi do un consiglio Non fatelo a casa ma fatevi aiutare in caso da un genitore O comunque qualcuno di esperto in queste cose O che comunque ha le mani abbastanza grandi Oppure direttamente ordinatelo da Aliexpress e altri siti Perché ho notato che Aliexpress e questi siti affini Come per esempio Amazon e Banggood Mettono sul mercato dei prodotti di importazione giapponese barra cinese E come sapete i giapponesi barra cinesi Sono dei mastri nel riuscire a capire cosa vuole l'utenza Dato che comunque non è il nostro interesse averlo con la scritta Nintendo Switch E non ci serve caricatore e via dicendo E dato che la versione Nintendo Switch costa 12€ Chi ce lo fa fare di spenderli? Spegniamoli più che altro nella versione cinese Che costa per esempio 2€ E la trovate già smontata Quindi un perfetto adattatore Certo la qualità dell'originale non si bate Quindi se volete andare sul sicuro Comprate sempre pezzi originali Ma dato che la Nintendo ancora non vende una cosa del genere Insomma prendete la vostra decisione E andate voi sul sicuro su Aliexpress, Banggood e via dicendo Oppure semplicemente su Amazon Comprate un altro pad, lo smontate e via dicendo Basta che lasciate un pad originale Quello contenuto nella confezione In caso doviate restituire la console Venderla o via dicendo Per quanto riguarda il gameplay Io mi trovo estremamente bene Col fatto che adesso questi qua sono attaccabili in questo modo Perché io francamente ho le mani un po' grandi Quindi non mi sentivo particolarmente comodo con quel grip Poi ogni tanto li sentivo sballonzolare Certo adesso lo stesso un po' sballonzolano Perché si è creato Non so se lo sentite Si è creato un po' di spazio Col metti esci metti esci dei joycon Però in ogni caso Quando tu stai giocando Non te ne accorgi perché sei troppo preso dal gioco Ve lo posso garantire E' una cosa che è per tutti Senza il grip invece Ho notato che si è comodo Però senti qualcosa mancare qua In questa parte Senti qualcosa proprio mancare Questa cosa viene appunto compensata Dal fatto che noi abbiamo le cover in silicone Perché ho scelto di fare questo? Perché io sono particolarmente spesso fuori casa E molto spesso fuori casa Non posso portarmi pro controller Ma posso portarmi la switch Con due joycon attaccati Due joycon separati Soltanto che i miei amici dicevano sempre Eh ma mi trovo male con i joycon separati E dicevo Ah contentati e basta No ovviamente gli dicevo Guarda cercherò di trovare una soluzione Così possiamo giocare al meglio Dato che comunque Cerco di venire molto incontro Alle persone con cui gioco E quindi mi è venuta questa idea Di sprecare ben 12,99 euro Per comprare questo affarino E smontarlo E' stato veramente un piacere riuscirci E non penso che sia una cosa Che è troppo troppo difficile Però come vi ho detto Fatevi aiutare Nel caso siate piccoli Da un adulto Nel caso siate un po' grandi State attenti Perché non voglio avere Sangue vostro sulla coscienza Perché davvero Insomma no State attenti Fate da bravi E via dicendo In ogni caso Vi vorrei dire un paio di cosette Domani dato che è domenica Dovrebbe uscire Anzi esce È sicuro 8 giochi da avere assolutamente Sulla Nintendo Switch Dato che questo episodio Ha comunque tardato ad uscire Perché avevo un esame Che comunque è andato Abbastanza bene all'università Quindi dato che domani Esce questo fantastico episodio Io già vi avviso Perché sarà veramente bellissimo E pieno di troppi troppi giochi Da comprare Quindi preparatevi almeno Un centone da spendere In ogni caso Io vi ringrazio nuovamente Per la visione ragazzi Ricordatevi di lasciare Tanti bei mi piace Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Di questa variante Molto molto strana Del grip per Nintendo Switch Detto questo Io comunque vi aspetto Appunto nel prossimo video Domani a mezzogiorno Perché è domenica E non mancate assolutamente Ciao 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 Ciao